Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. La condivisione di Ibrahim Seligol, che attira l'attenzione di Birce Akalai, ti ho amato una volta. Suonati e ammirati insieme nelle serie tv Black & White Love e Bird Flight. Birce Akalai e Ibrahim Seligol, che sono tre partner, spesso sono innamorati? Presumibilmente sulla stampa scandalistica. Questa volta la famosa attrice Birce Akalai ha attirato l'attenzione con un nuovo post. È stato affermato che Akalai fosse con il suo caro amico. La condivisione con Ibrahim Seligol della canzone ti ho amato una volta ha sollevato la stessa domanda. Ecco la condivisione di Birce Akalai con Ibrahim Seligol. Birce Akalai, che utilizza spesso i social media, ha attirato l'attenzione con la sua condivisione di oggi. Condividendo con Ibrahim Seligol, Akalai ha aggiunto la canzone di The Home and I Love You Once a questo post. La condivisione di Ibrahim Seligol, che attira l'attenzione di Birce Akalai, ti ho amato una volta. Taggando Ibrahim Seligol nel post del famoso attore. In alcuni fotogrammi, anche se sembri essere uno, in realtà sei due persone, e quando dici guarda, guardi la telecamera, non la telecamera. Ciò che appare nella fotografia è il riflesso della persona dietro quella macchina fotografica. Grazie per ogni momento. Ha giorni migliori. Sono felice che tu sia il mio caro amico, il mio compagno di viaggio. Dopo questa condivisione, c'è amore? La domanda è emersa. Birce Akalai e Ibrahim Seligol, il cui legame di amicizia non si è spezzato. Di recente è andato in vacanza con i suoi amici. I fan di Birce Akalai e Ibrahim Seligol, che amano molto l'uno per l'altro, erano molto eccitati dopo le pose delle vacanze. E vivono innamorati? Sono arrivate domande. Il matrimonio di Ibrahim Seligol e Mayarmutlu, durato cinque anni, si è concluso lo scorso giugno. È stato affermato che il bellatore ha iniziato ad avere una relazione amorosa con Birce Akalai. Tuttavia, si è appreso che il bellatore non era innamorato di Birce Akalai, ma della sua cara amica Natalie Yarkin. I due, che ogni volta si attribuiscono l'un l'altro, hanno finalmente condiviso un nuovo post. I famosi attori in posa seduti sulla sedia dove sono scritti i nomi l'uno dell'altro, hanno lasciato cadere la nota Forever 19. La posa domenicale del duo, che si è detto molto amico, ha ricevuto moltissimi like e commenti. Era così nelle nostre notizie, se ti piace, premi il pulsante mi piace e... non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci. Arrivederci.